La polizia è arrivata in forze per presidiare la zona, ma l'inaugurazione della sede di Forza Nuova all'Arancio a Lucca si è svolta senza nessun problema di ordine pubblico. Al taglio del nastro dei locali in via Orzali erano presenti un'ottantina di militanti ed il segretario nazionale del partito di estrema destra, Roberto Fiore. L'apertura di una nostra sede a Lucca è un fatto storico, ha detto Fiore, che ha ringraziato per questo i militanti lucchesi. Il vento in Europa sta cambiando, ha aggiunto il segretario nazionale, secondo il quale Forza Nuova deve prepararsi ad andare al governo. Sono intervenuti anche il coordinatore per l'Italia centrale, Leonardo Cabras, e quello provinciale Giovanni Damiani, che hanno affermato come sia anche merito di Forza Nuova se oggi argomenti come il controllo dei confini nazionali e del contrasto all'immigrazione sono diventati centrali nel dibattito politico. Ha preso la parola anche il neosegretario regionale, il lucchese Emiliano Mari. Per noi è un giorno importante, ha detto, perché mentre apriamo la nostra sede, a Pistoia chiude il centro di accoglienza di Don Biancalani.